Giulia Zanello nella categoria Youth, dopo la Stato Unitenza nella stessa categoria avremo Sara Facchetti, quindi attenzione da casa. E siamo pronti per benvenire a tavolo l'italiano Giulia Zanello da Italia, Giulia è la 9a dopo la round preliminare, nona dopo la round preliminare, il punteggio combinato. E come per tutti gli italiani, avremo un commento double-languaggio con il mio amico collega Elisa Amocci. Un pochino avanti per questo triplo di inizio. E come per l'italiano, nona dopo la scuola, nona dopo la scuola, nona dopo la scuola, nona dopo la scuola. E anche questo lancio un pochino avanti, nonostante la bellezza dei movimenti di corpo. E come per l'italiano, nona dopo la scuola, nona dopo la scuola, nona dopo la scuola, nona dopo la scuola, che non c'è la scuola, nona dopo la scuola. Bene, la fine della serie è il ruolo orizzontale. E purtroppo un'altra caduta sul triplo finale per Giulia. E infortunatamente un altro piccolo drop sul triplo finale per Giulia Zanello da Italia. Elisa, un commento a caldo? Sì, peccato per il lanto.